Un regalo per i bambini autistici e con disabilità e un aiuto per l'assistenza domiciliare ai malati di tumore. Raddoppia la solidarietà a chi acquisterà l'uovo sospeso di Ant. L'iniziativa è il suo terzo anno consecutivo e dopo l'associazione Lapira e Prato Aiuta Prato darà una mano alla Fondazione Opera Santa Rita che si occupa di minori con difficoltà personali, familiari e sociali per assicurare loro una crescita armoniosa e un inserimento adeguato nel contesto sociale. Con un'offerta minima di 16 euro sarà infatti possibile donare un uovo di cioccolato da 500 grammi al latte o fondente a ben 584 bambini seguiti dalla Fondazione Santa Rita. Sentiamo veramente il calore e la vicinanza di tutta la città per i nostri ragazzi perché quando c'è un bisogno si stringono tutti intorno a noi e cercano di darci una mano per andare avanti. Per chi vuole contribuire sarà possibile ordinare l'uovo sospeso scrivendo a delegazione.pistoia.prato.it o collegandosi al sito. È un impegno importante perché veramente questa associazione del territorio pratese assiste ben 584 bambini e non vorremmo che nessuno di loro restasse senza uovo. Quindi un appello ai pratesi. Il progetto ha ricevuto il patrocinio del Comune di Prato. Mi auguro che la grande generosità che tutti i pratesi sempre esprimono in queste situazioni che è riconosciuta la nostra città anche stavolta si manifesti appieno.